Ciao e benvenuti a una nuova puntata della rubrica dell'oracolo. Andiamo a vedere che cosa intervò per noi l'universo nella settimana che va da lunedì 26 di giugno fino a domenica 2 di luglio. E come al solito lo facciamo col mio oracolo, le leggi della magia, l'oracolo della magia gialla. Andiamo a vedere qual è l'emozione dominante questa settimana. Andiamo poi a vedere qual è la legge universale all'opera. E infine andiamo a vedere qual è l'azione che le carte ci consigliano di intraprendere per armonizzarci con la legge all'opera. E volate. Ok. Allora, andiamo a vedere. La legge e l'emozione dominante questa settimana è la noia. La legge universale è la legge della conoscenza. Molto interessante. E infine l'azione. Ah, il team invisibile. Allora, carte curiose, carte curiose e simpatiche. Perché? Perché praticamente questa settimana iniziamo ad avere un po' di noia. La noia non è un'emozione così brutta. Possiamo dire che è una sorta di emozione portale perché è un'emozione che congiunge le emozioni negative e le emozioni positive. Si passa per la noia perché la noia la proviamo quando abbiamo tempo. Quindi vuol dire che c'è qualche situazione che nella nostra mente, per esempio, è finita, è terminata, abbiamo cambiato, siamo cambiati noi, sono cambiate le cose. Quindi ripetersi di questa situazione ci viene a noia. Ci sembra una perdita di tempo. Però essendoci la legge della conoscenza ci sta dicendo che c'è ancora qualcosa che dobbiamo sapere di questa situazione. Quindi evidentemente questa settimana ti imbatterai, ci imbatteremo in situazioni che ci potrebbero appunto venire a noia, ci potrebbero annoiare, ma allo stesso tempo che possono darci quell'ultima informazione, quell'ultimo passo per poterla chiudere definitivamente. Se guarda infatti bene la carta della noia, c'è questa fanciulla accucciata e questa invece che è riuscita a spiccare il volo. Proprio perché, per esempio, la noia può essere connessa alla necessità, per esempio, di ascoltare un po' di più il nostro corpo, magari di smettere, non lo so, di fumare piuttosto che di mangiare sano in questo periodo. Quindi magari molta frutta fresca, molte bibite, bere molta acqua. Il non seguire un certo stile di vita ci potrebbe portare anche un affaticamento che è insito anche in questa vibrazione. La noia appunto in questo caso ci va proprio a dire che c'è qualcosa che non ci appartiene più, che stiamo perpetuando e quindi ci fa sentire questo senso di scocciatura perché è proprio come se andassimo a perdere del tempo. La legge della conoscenza viene in nostro soccorso e ci aiuta perché appunto c'è qualcosa che abbiamo bisogno di conoscere. ci dice che il suo corollario è appunto conosci te stesso, quindi questa noia ci porterà a conoscere qualcosa di noi stessi. Poiché la legge della conoscenza ha un ampio raggio di applicazione, se pensate di tornare a studiare, di approfondire qualcosa, magari a settembre, non so, di iscrivervi a un corso o a scuola, se durante l'estate volete approfondire qualcosa, volete seguire un corso, volete imparare una particolare skill, una particolare competenza, bene, questa settimana valutatelo bene perché se non lo fate, se non prendete in considerazione questo ampliamento delle vostre conoscenze potrebbe insinuarsi la noia di dire non posso mai fare niente di quello che mi piace eccetera. Quando insomma avvertite questa emozione ricordatevi che c'è qualcosa che dovete apprendere, che sia un qualcosa di voi, come curarvi di più, prendervi più cura di voi in base a quest'estate calda, che sia un qualcosa che dovete andare ad approfondire, una competenza, un ritorno agli studi, un corso professionale o professionalizzante. Tutto questo lo vuole l'universo, lo vuole il vostro team invisibile, quindi non ci potete fare niente, li dovete assolutamente assecondare. Ormai anche voi sapete com'è fatto l'universo, quando ci dà un messaggio dobbiamo per forza far così. Quindi questa settimana accogliete l'occasione per far agire in vostro favore la legge della conoscenza e apprendere qualcosa di importante di voi. Sappiate che il team invisibile ci dice che non siamo mai soli e che quindi possiamo essere guidati dai segni che appunto le nostre guide, i nostri protettori, chiunque voi desideriate o a cui vi affidate, potete chiedergli di aiutarvi conoscere cosa vi sfugge e farvi uscire dalla noia verso una bella vibrazione più positiva, per non rischiare invece di abbassarci nuovamente. Quindi si può andare su appunto applicando la legge della conoscenza, quindi sappiate che tutto è guidato e non prendete niente come se fosse una noia, una scocciatura o addirittura una punizione. È un qualcosa che vuole l'universo per il vostro sommo bene. Prendetela come tale. Che altro dire? Ah, se non sei ancora iscritto al canale, fallo subito, ti aspetto qua su YouTube per altri video, su Facebook per tante altre cose oppure su Instagram. Quindi qualunque cosa sai dove trovarmi e felice settimana. Alla prossima! Grazie a tutti!